Il portone lì è tutto... Hanno preso a calcio il portone qualcuno, attenzione, gol! 0-3, 0-3 Abbiamo preso il terzo gol 3-0 Tutti se ne vanno 0-3 Disfatta interna per la viva e la mezza oggi Disfatta interna 0-3 Oggi una depacchial proprio per la viva e la mezza tra le mure amiche C'erano i presaggi all'inizio della partita La squadra senza tranquillità era scesa in campo Molti errori tra i giocatori, tra i passaggi Molto nervosismo e alla fine si è scivolato su questo 0-3 Ovvero sconforto in tutto lo stadio per questo risultato Per la mezza che veniva dalla sconfitta di Rossano Di mercoledì dopo averle dato tre vittorie consecutive La vittoria importante col Modica